buongiorno a tutti raga lorenzo pentivoglio dalla contea mezzaluna e oggi andiamo a vedere come costruire un abbeveratoio per erbivori sigla bella raga lorenzo ci ha fatto vedere il pascolo settorizzato rigenerativo non selettivo e bla 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 ma abbiamo bisogno di qualcosa che ci eviti di andare giornalmente all'interno dei nostri settori sia perché sono lontani dalla nostra zona 1 o zona 0 che sia se non sapete quali sono le zone a breve farò un video sulla zonizzazione in permacultura quindi iscrivetevi al canale e spuntate la campanella per non perdervelo e quindi come costruire un abbeveratoio che possa almeno per una settimana o più fornire acqua sempre pulita ai nostri erbivori andiamo a vederlo raga non abbiamo fatto altro che smontare dei pallet che già avevamo se non sapete come fare qua c'è il video e creare questa struttura tutta intorno al nostro bidone da 200 litri che potete trovare o in un ferri vecchi o in qualsiasi altra ferramenta che avete nella vostra zona lo tagliate al di sopra così che il coperchio possa essere facilmente rimovibile ok una volta messo all'interno il nostro bidone andiamo a comprare una boccola che possa essere stretta sia all'esterno sia all'interno ora ve la faccio vedere eccola la ok quindi si stringe all'interno e all'esterno di solito sono fornite di guarnizioni raga ma per stare più tranquilli all'interno del buco mettiamo un po di silicone e poi stringiamo vi posso assicurare che una goccia d'acqua non esce nello stesso posto dove abbiamo preso la nostra boccola prendiamo un tubo flessibile classico da lavandino e lo andiamo a collegare al nostro abbeveratoio questo ragazzi c'è da comprarlo per forza perché perché all'interno di questa scatoletta nera abbiamo il nostro galleggiante andiamo a vederlo eccolo qua raga abbiamo smontato il nostro coperchio e all'interno abbiamo il nostro galleggiante qual è la sua funzione molto semplicemente quando è giù l'acqua riesce a passare alla fessura non appena inizia a riempirsi la nostra ciotola il galleggiante si solleverà e chiuderà l'ingresso dell'acqua molto semplicemente non appena l'acqua scende perché i nostri erbivori inizieranno a berla il galleggiante scenderà liberando di nuovo la fessura e riempendo di nuovo acqua sempre pulita perfetta e sempre pronta all'uso piccoli consigli che mi sento di darvi raga non fissate il tubo nella parte più bassa del nostro bidone anche se così i nostri animali avranno più tempo e più indipendenza perché avranno più acqua perché perché tutte le particelle pesanti all'interno della nostra acqua anche se pulita andranno a depositarsi sul fondo e le particelle più leggere andranno a galleggiare in cima quindi la parte più pulita di qualsiasi contenitore d'acqua è al centro e difatti la nostra boccola come vedete è bene o male a un terzo coprite sempre il vostro contenitore così che non possa prendere luce e formare alghe se è di materiale scuro che non faccia passare la luce all'interno ancora meglio sempre per lo stesso motivo progettate qualcosa che possa mantenere il nostro coperchio chiuso e come per esempio alla contea che siamo invasi dal vento non possa essere fatto volare via noi abbiamo progettato un semplice elastico porta pacchi si mette sopra al coperchio e lo tiene bloccato semplicissimo raga in questa maniera avremmo giorni e giorni e giorni di acqua sempre pulita per i nostri animali bella ragazzi spero con questo video di avervi aiutato per rendervi ancora più indipendenti e volti verso l'autosufficienza alimentare igienica ed energetica iscrivetevi al canale se già non l'avete fatto e spuntate la campanella per rimanere aggiornati commentate se volete altre informazioni sia a livello costruttive o di funzionamento del nostro abbeveratoio se volete sostenere la contea mezzaluna e tutto il suo lavoro di sperimentazione in clima mediterraneo di sistemi permaculturali e di diffusione di informazioni vi lascio il link in descrizione dove potete offrirci un caffè lorenzo ventivoglio vi saluta al prossimo video ciao 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 ciao